I miei quattro amici e io avevamo scoperto un asse del pavimento dell'aula che si era allentata e quando eravamo riusciti a sollevarla con un temperino ci avevamo trovato sotto un grande spazio vuoto. Decidemmo che quel luogo sarebbe stato il nostro nascondiglio segreto per i piccoli tesori. Ogni pomeriggio finita l'ultima lezione tutti e cinque aspettavamo che l'aula si svuotasse. Poi se lo avevamo l'asse e contemplavamo il nostro bottino aggiungendo ritirando qualcosa. Un giorno sollevata l'asse troviamo un topo morto lungo disteso sui nostri tesori. Che scoperto è eccitante! Tuaites lo afferò per la coda e ce lo fece dondolare davanti al naso. Che ne facciamo? Puzza! Butta dalla finestra dai! Un momento! Non butta! Tuaites esitò. Tutti mi fissarono. Quando si scrive di sé bisogna essere sinceri. La verità è più importante dell'amore o destia. Vi devo dire perciò che fui io. Io soltanto dove ero l'idea del grande e audace complotto del topo. Tutti noi abbiamo dei momenti di gloria. E questo fu l'unico. Perché non lo ficchiamo in uno dei barattoli della prece? Così, quando ci infila la sua lurida mano per prendere una manciata di roba, si becca un topo morto e puzzoletto. Gli altri mi fissarono sbalorditi. Poi quando cominciarono ad afferrare la genialità della mia pensata, si misero a sguignazzare e mi diedero grandi pacche sulla schiena. Facciamolo oggi! L'idea è tua. Perciò nel barattolo lo metterai tu. Tuaites mi dese il topo e io me lo cacciai nella tasca dei calzoni. Poi tutti e cinque lasciammo la scuola e ci dirigemmo verso il negozio di dolci. Eravamo fuori di noi per le citazioni. Stai attento a metterlo in uno dei barattoli più usati. Lo metterò nelle palle arcobaleno. Le palle non stanno mai dietro la cassa. Oh Penny! Le chiederò un succhio sorbetto o una stringa di licurizia. E quando lei si volta a prenderli, tu, lesto lesto, le fichi il topo nel barattolo delle palle arcobaleno. E così il piano fu messo a punto. Entrammo baldanzosi nel negozio. La signora Pratchett stava dietro la cassa. E quando entrammo ci guardò sospettosa con i suoi maligni occhietti porcini. Un succhio sorbetto, per favore. Disse Dwight. Io mi tenevo in fondo al gruppo. E quando la vi di girarsi per prendere il succhio sorbetto, sollevai il pesante coperchio delle palle arcobaleno. E ci gettai dentro il topo. Poi rimise il posto il coperchio. Più silenziosamente che potei. Il cuore mi batteva all'impazzata e aveva le mani rischiazzate. Non vi voglio tutti quando vengono solo che compri. E ora filate, gambe. Una volta fuori ci mettemmo a correre. Ce l'hai fatta? E come? Bravo! Che colpo! Mi sentivo un eroe. Era un eroe. Che meraviglia essere così popolare. La mattina dopo ci ritrovammo per andare a scuola. Andiamo a vedere se è ancora nel barattolo. Assolutamente no! Disse il deciso Dwight. E' troppo pericoloso. Passiamoci davanti come se niente fosse. Arrivati all'altezza del negozio, vediamo un cartoncino appeso alla maniglia. Mai il negozio era stato chiuso a quell'ora del mattino. Neanche di domenica. Cos'è successo? Cosa può essere? Guardammo dentro, il naso schiacciato quanto l'avellina. La signora Pratchett non si vedeva da nessuna parte. Guardate! Il barattolo delle palle d'arcobaleno è sparito. Non è solo scaffale. Al suo posto c'è un vuoto. E' per terra! E' in mille pezzi e ci sono palle dappertutto. E laggiù c'è il topo. Potevamo distinguere tutto. L'enorme barattolo di metro in mille pezzi, il topo morto fra le ottavi e centinaia di palle multicolori sparse sul pavimento. Ha avuto un tale colpo quando afferrati il topo che ha lasciato cadere tutto. Ma perché non ha spazzato via ogni cosa? E non ha aperto il negozio? Nessuno mi rispose. Ci sentivamo un po' a disagio. Non era normale che il negozio fosse chiuso. Nell'aria c'era un vago d'ore di pericolo. Dopo un po' Toaides ruppe il silenzio. Deve aver avuto proprio un colpo tremendo. Dopotutto trovarsi in mano un topo morto quando si crede di afferrare una palla al copaleno deve essere un'esperienza sconvolgente. ti pare? Nessuno gli rispose. Beh, quando una persona di quella età riceve all'improvviso un grave colpo, sapete no cosa le capita? Cosa? Cosa le capita? Deviene una crisi cardiaca. Il cuore smette di battere e la persona muore in 5 secondi. Per un momento il mio cuore cessò di battere. Toaides mi puntò un dito contro e indicarò. Ho paura che l'hai uccisa. Io? Perché proprio io? L'idea sta da tua e in più sei tu che hai messo il topo nel barattolo. Improvvisamente ero diventato un assassino. In quel preciso istante sentimmo suonare da lontano la lampanella della scuola. Ci precipitammo tutti e cinque i nostri posti. Proprio mentre il direttore invece aveva il suo ingresso. Si chiamava Combes. Era un gigante della faccia simile a un piaciuto con una massa di capelli. Venti in testa. Tutti gli alunni vadano ad allinearsi immediatamente nel cortile. Lasciate qui libri e non una parola. Io me ne stavo lì, piccolo e terrorizzato, in mezzo agli altri scolari. Sta cercando l'assassino. Murmurò Toaides. Cominciai a premare. Avevo l'impressione che lo stomaco mi stesse lentamente riempiendo da poco orgogliante. Ho solo 8 anni, mi dicevo. Nessun bambino di 8 anni mi ha ucciso qualcuno. Non è possibile. Il vice direttore gritava. Arigatevi in guida in guida, sbrigatevi, smettetevi di chiacchierare. In riga per classe. Mr. Combes apparve gigantesco e massiccio e dietro di lui, incredibile, la signora Pratchett in pezzona. Era viva. È viva. Sussurrai a Toaides accanto a me. Non l'ho ucciso. Toaides non si dognò di rispondermi. Cominciamo da qui. Stava dicendo Mr. Combes alla signora Pratchett. La ferro per uno dei suoi braccietti ossuti e la condusse di fronte alla sesta classe. Ma che diavolo fanno? Sussurrai. Toaides non mi rispose. L'idea di un'occhiata era un po' impallidito. Troppo grandi! Dichiarò la Pratchett. Troppo grandi un bel po'. Nessuno di questi. Andiamo a dare un'occhiata a quei rospetti laggiù. Stavano avvicinandosi a noi. Erano vicinissimi. Improvvisamente la signora Pratchett lanciò uno strello acuto. Ah! E' appunto un dito su Toaides. E' lui! E' uno della banda! Loro riconoscerei tra mille quel piccolo deppista schifoso. L'intera scuola si girafita a chistere Toaides. C-c-cosa ho fatto? Balbettò lanciando uno sguardo infiolante a Mr. Combes. Zitto! Disse Combes. La signora Pratchett mi puntò con gli occhi e mi misi a risaminare il nero asfalto che ripopriva il cutile. Un altro della banda! Lei vuoi distrindare. Eccolo là! E mi invitava. E' sicuro? Altro che sicura. Non dimenticherò mai una faccia. E' falsa come quella poi. Era nel gruppo. Cinque erano. Dove sono gli altri tre? Tanti tre lo sapevo bene. Erano subito dopo di me. Con espressione velenosa, la signora Pratchett fece sparere lo sguardo sui miei vicini. Eccoli! Lui! Lui e lui! Fanno cinque? Neh! Inutile guardare ancora, signor direttore. Tutte qua, quelle carogne. Ha preso giù i nomi? Neh! Le sono molto obbligate. E io a lei, signor direttore. E mentre il direttore le faceva attraversare il cutile, sentì il nome di caccia. Proprio in mezzo all'albarattolo delle palle era. Una carogna puzzolente di dopo. Non la dimenticherò finché è vivo. Neh! Non il Grazie a tutti.